Ma salve e ben tornati alla Chrome con i fake moon più belli dell'universo Eravamo fermati nella città quella bella e quindi dobbiamo andare a battere la palestra Oh dio mio meno male che c'è anche lui So già cosa sostituire Lascio giù le impronte Oddio ha messo il mugshot Credo che anche questo qui arrivi da Golden Sun Scusatemi non lo so Vi giuro prima o poi ci giocherò E ne parlerò sull'altro canale Ve lo giuro Ve lo giuro Prima o poi Cioè sicuro non questo mese perché conosce Ran Kagura in here Quindi no Però poi forse sì Ok? Forse Forse Hey Gigi no Da quanto tempo che non ci vediamo Io veramente non ti ho mai visto Vista Non so chi cazzo Va bene Io sono Genna La capopalestra di Sinder Credo che sia un nome proprio Quindi ok Tagliamo subito Combattiamo siiii mad shot bah va beh oh cazzo dunque che palle è quella a fare ma qui ne ho colpito qui non è volante qui è per forza drago e fuoco bella lì, via ti voglio bene Fury e visto che è salito al 16 sei diventata una Sailor Moon dovrebbe evolversi grazie per la medaglia inferno si si evolve, sta cambiando forma, sappiate che ho tanta ma tanta paura cosa cazzo sei, però quantomeno questo tizio si è sforzato di creare roba no chi sei tu no aspettate ma che cazzo te 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 dai e te e chi chi co cosa oh ciao gigino quanti pokemon hai catturato quattro veramente incredibile più ne catturi più otterrai vantaggio in battaglia questo mi ricorda un altro set di creature carine non lo so comunque continua il buon lavoro eh sì però tu sei uguale a me cioè chi cazzo sei ho trovato questa cosa odd sample sample of some kind of stone ok ok va bene ah ma aspetta dovrei insegnare taglia a qualcuno oh un gatto aspetta che lo catturo oh black cat come il manga no nessuno lo fate schifo fate schifo ah dio ok no dai per favore massimo questo ragazzo ha trovato i nostri cosi aspetta lo so massimo devo chiederti una cosa vuole parlarti questo è un grande onore sì se sapessi chi cazzo fosse però sarebbe ancora meglio per favore vai avanti io sono massimo ok il capo della massimo corporation e uso i draghi bianchi occhi blu e sono bellissimo cazzo ci sono tutti gli esseri favolosi e quelli bellissimi cazzo questo gioco sono stupendo eh infatti giusto infinitivamente domandarsi ecco è per questo che ti chiedo di portare questi cosi a cloud 9 devi prima mi paghi poi vediamo figlio di puttana in più devi anche portare questa lettera a un uomo misterioso sì vabbè poi che cazzo vuoi che è vicino ai seaside suburbs ok questo è estremamente imperativo se ti tirassi un calcio nel culo comunque per convincerti per davvero entrare dalla mia parte devo corromperti vedo che adesso ci capiamo bravo bravo prendi questo prendilo mi hai dato un po' ah beh almeno il taglio l'ho trovato io ho veramente paura ho davvero paura eh certo eh certo tabistri questo qui è carino lo chiamerò ehm coastal cities ok lo chiamiamo dance bars eh lo chiamiamo dance bars perci cosa è coco datemene mille per forza eh come l'avreste voluto chiamare allora fatemi dare un occhiazzo si è zubat poison flying stesse mosse tutto uguale vale si sarà rotto le palle a un certo punto bene beh sì se i cambiamenti sono stati allunghiamo questa parte è grandioso cosa cazzo minore il cielo eh stiamo per perdere perché questo qua ok va bene l'abbiamo presa ecco quindi devo allenarmi ok mi sono allenato la squadra come potete vedere ho portato i tre principali cioè in realtà lui non l'ho allenato ma gli altri due li ho portati entrambi al 16 e quindi adesso siamo pronti per aprire il culo a sto tizio che neanche ci caga ci combatti direttamente va bene eh sì levati dai piedi perché i pokemon carini ci devono sono gli altri muori ok Gino sembra che siamo riusciti finalmente a incontrarci è questo mondo dove abitiamo adesso e sembra che ci stiamo adattando bene ma voglio vedere le tue abilità Gino fa vedere cosa imparare ma aspetta questo dialogo non dovrebbe apparire prima della lotta d'accordo bel lavoro sembra che ti stai aggiustando bene come ricompensa tieni questo quarzo ti darà abilità che prima avevi ti può fare meno schifo quella sarebbe una bella cosa ah posso leggere nel pensiero della gente ok ah devo mettere l uguale a ok ciao dunque ci siamo divertiti tanti ci siamo divertiti tantissimo tirare giù quel barbone sì c'è una palestra perché questa qui è blu c'è molto da dire fighting types c'è proprio manco cambiare il tipo della palestra qui proprio lo scazzo enorme d'accordo d'accordo magari la palestra ce la teniamo per la prossima volta perché facciamo così adesso noi ce ne andiamo avanti oh teletrasporto niente animazioni brutte ecco siamo in questo percorso nel prossimo episodio magari esploriamo il percorso e la palestra la facciamo quando siamo un attimino più pompati dai perché comunque comunque a livelli eravamo più bassi degli altri quindi non è che mi fidi troppo a proseguire quindi guardate sto salvando noi ci vediamo al prossimo episodio di cose belle e molto brutte perché di sicuro ci saranno dei fakeballs brutti magari devo depositare il pipistrello di merda però ok ciao 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 ciao